domani comincia comincia il girone di ritorno l'andata l'abbiamo l'abbiamo fatta molto bene manca manca sempre una partita che andremo a recuperare dopo la sosta ma domani dovremo fare una partita molto concentrata molto attenta di personalità perché andiamo ad affrontare una squadra che già nella partita d'andata ha creato difficoltà che domenica ho visto la partita a genova ha fatto una buonissima gara con la sandoria probabilmente non meritava di perdere quindi dovremmo essere attenti ho messo in guardia i ragazzi e sanno che dovremmo andare a fare una grande partita per vincere la ferrara io sono convinto che rispetto rispetto a due anni fa di quando ho cominciato siamo sono cambiati giocatori sono cambiati determinati determinati moduli adesso la squadra ha più certezze è in crescita e quello che vogliamo farci come normale che sia per tutti quelli che lavorano è migliorarci sappiamo che abbiamo fatto un grandissimo percorso perché è giusto non dimenticare quello che è stato fatto con la vittoria di supercoppa il passaggio alle semifinali di coppa italia ai sedicesimi d'europa league insomma abbiamo fatto fino adesso percorso netto probabilmente avremo meritato qualche punto più in classifica ma i punti sono questi e il giorno di ritorno sarà per migliorare sapendo che partiamo da una buonissima base ma per tutti quelli che lavorano tutti i giorni c'è sempre da migliorarsi io in questo fino fino ad oggi non ho non ho parlato di mercato assolutamente con la società perché abbiamo ancora oggi domani dobbiamo essere tutti quanti concentrati sulla spal perché quello è il nostro obiettivo è normale che dopo domenica ci sarà la pausa ci sarà una settimana di stacco ma io sarò in continuo contatto con la società perché vedremo se dovremo fare qualcosa però ad oggi non è ancora stato parlato di nulla se non per quanto riguarda l'aspetto di De Vrij che ho detto che era un mio desiderio come normale che sia il suo rinnovo perché è un giocatore straordinario mi auguro che possa continuare con noi siamo in attesa delle delle insomma delle novità che arriveranno sul caso però per quanto riguarda lo stesso De Vrij che avevo detto questa cosa questa settimana l'unico mio obiettivo era quello insomma di preparare al meglio la partita che andremo a fare domani poi dopo domani insomma con la società c'è totale sintonia e parleremo del resto ma adesso l'unica cosa che mi preme di più è la partita di domani perché dobbiamo dobbiamo chiudere insomma questo questo ciclo di partita nel migliore dei modi